E' da 75 giorni continuano le manifestazioni di protesta dei lavoratori Savio contro la decisione aziendale di licenziare 82 dipendenti su un totale di 300. Nel pomeriggio di oggi a Chiusa San Michele i sindacati hanno promosso il quarto giorno di presidio davanti ai cancelli della fabbrica, invitando i sindaci della Valle Susa e gli amministratori locali e quanti intendano sostenere la lotta in difesa del posto di lavoro. Ma sentiamo qual è la situazione. La situazione purtroppo è drammatica nel senso che alla fine dei 75 giorni è stato sancito che non ci sono le possibilità di fare un accordo per cui nei prossimi giorni arriveranno le lettere di licenziamento per queste persone visto che l'azienda avendo aperto la procedura per 82 persone questo è il numero che alla fine sarà possibile da parte dell'azienda licenziare. E restiamo in Val di Susa perché sono in corso gli accertamenti della polizia per identificare alcuni dei partecipanti alla manifestazione Notav di ieri che dopo aver dato vita a una passeggiata da Giaglione al cantiere dell'alta velocità ferroviaria hanno aggirato il blocco su un percorso però interdetto al transito da un'ordinanza del prefetto. Intanto la polizia sta cercando di capire se sia sempre legato al movimento Notav l'incendio della scorsa notte di quattro pneumatici sull'autostrada Torino-Bardonecchia. Lo vedete nelle immagini all'imbocco della galleria Prapontin nel territorio del comune di Bussoleno. Il traffico è rimasto bloccato per una ventina di minuti.